Come prima cosa ci reghiamo sul sito dell'ITI Scandizzario di Colleferro, più precisamente nell'area registro elettronico dove la vice presidenza e la presidenza ci hanno messo le credenziali per il primo accesso sulla piattaforma Microsoft Office 365. Inseriamo username e password registro elettronico, andiamo alla sezione registro di classe, più precisamente nel giorno dell'11 marzo troveremo a note del dirigente un'email che finisce per www.chiocciolagannizzaro.onmicrosoft.com, la copiamo, andiamo su Google e cerchiamo Microsoft Office 365 Education A1, mi raccomando A1. Cerchiamo il sito, apriamo il secondo link, andiamo in fondo dove ci chiederà l'indirizzo email della scuola, clicchiamo tasto destro, facciamo copia e deve essere appunto un'email che solitamente è nome.cognome.s.cannizzaro.microsoft.com, clicchiamo per iniziare e andiamo avanti, ci chiederà se siamo degli studenti o degli insegnanti, naturalmente selezioniamo studente, ci dirà che comunque è già stata acquistata una licenza per questo account dalla scuola, possiamo cliccare accedi quindi e ci chiederà naturalmente la password, questa password sarà la password di primo accesso, quindi validà una volta, che troviamo sul registro elettronico, in questo caso primo accesso 123, facciamo tasto destro copia, diamo su enter password e clicchiamo tasto destro incolla, ci loggiamo all'interno del sito e naturalmente ci chiederà, ci dirà che comunque la password che abbiamo inserito è una password di primo accesso, quindi va cambiata con una nuova password, una password più sicura, quindi cosa facciamo, andiamo a copiare la nostra password temporanea e andiamo ad inventare una nuova password e facciamo login, naturalmente ci dirà che abbiamo già una licenza per Microsoft Office 365 Education perché è stata già acquistata dalla scuola, comunque è stata già configurata per il nostro account, qui questa che vedete è la pagina iniziale di Microsoft Office 365, queste che vedete in alto adesso sono le applicazioni di Microsoft Office, in fondo abbiamo i file recenti e infine abbiamo OneDrive ovvero la cartella condivisa del drive di Office dove verranno salvati tutti i nostri lavori. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.